650 miliardi di dollari è la cifra stanziata dal Fondo Monetario Internazionale per aiutare i paesi a riprendersi dalla crisi economica causata dalla pandemia. Lo ha riferito la direttrice generale Cristalina Gheorgheva. Si tratta della più grande allocazione nella storia dell'FMI volta a rispondere al fabbisogno globale di lungo termine durante la più grave crisi della Grande Depressione. L'assegnazione della moneta del fondo sarà completata entro la fine del mese di agosto. L'assegnazione della moneta del fondo è la fine del fondo.